ben trovati buon venerdì trentatresima puntata di win city sport weekend siamo sempre ospiti come ogni settimana nella sala sisal win city catania di piazza trento che ci ha ospitato in tutto questo percorso la prossima settimana con mi condurrò l'ultima puntata di questo lungo cammino che ci ha portato anche attraverso i mondiali di calcio ma apriamo l'appuntamento di oggi che vi tiene compagnia come ogni venerdì sera con il ciclismo e domani scatta il tour de france la scorsa settimana abbiamo parlato dei vincenti della manifestazione dopo andremo a vedere invece quello che potrà succedere nella prima tappa di 201 chilometri prevista per domani come avvio del tour de france poi spazio mondiale di calcio con le altre due partite i quarti di finale del mondiale specificatamente svezia inghilterra e russia croazia andremo analizzare insieme poi vedremo anche le quote del passaggio del turno poi intervista a un ex arbitro esperto di var in questo in questo periodo proprio dei mondiali graziano cesari che ci racconterà proprio dell'esperimento tecnologico a russia 2018 poi la proposta della multipla di ogni settimana che vi suggerisco oggi una doppia con le due partite dei quarti di finale di dei mondiali di domani e poi il video dal web oggi dedicato alla mano dei dios di Diego Armando Maradona a messico 86 il gol di mano all'inghilterra nella partita in cui realizzò il gol più bello della storia dei mondiali e quei quarti di finale contro i leoni inglesi e poi in chiusura tennis con il torneo di Wimbledon ancora protagonista l'inghilterra con il torneo londinese e poi le quote speciali di sisal match point sisal.it le quote speciali appunto dei mondiali di calcio ma vi dicevo in apertura abbiamo il ciclismo è vero che c'è un gran premio proprio in inghilterra quindi inghilterra protagonista in lungo e largo in questa puntata il gran premio di donington della formula 1 la scorsa settimana vettela ha trionfato nel gran premio d'austria quindi la ferrari è tornata in testa sia nel mondiale piloti che nel mondiale costruttori ma vogliamo aprire con il ciclismo proprio perché domani invece in francia si si partirà con la corsa tappe del tour de france la gran boucle che scatterà proprio domani con la prima tappa di 201 chilometri una delle manifestazioni più importanti del ciclismo internazionale proprio durante l'anno e noi vogliamo proporvi in questo in questa prima tranche del nostro appuntamento odierno quello che sono le quote del vincente della prima tappa del tour de france andiamoli a vedere in insieme favoriti gaviria e grow again con una quota di 3 25 poi c'è marcel kit la 4 è il campione del mondo in carica peter sagan a 750 invece un ex campione del mondo cavendish è quotato a 16 e poi via tutte le altre andrea greipel a 16 insomma queste sono le quote dei papabili favoriti dei corridori favoriti al successo nella prima tappa e quindi alla prima maglia gialla della manifestazione del tour de france 2018 vedremo domani cosa succederà quindi per tutti gli sportivi amanti del ciclismo appuntamento da domani sulle strade transalpine con il tour de france apriamo adesso il capitolo invece dei mondiali di calcio con i quarti di finale che sono in pieno svolgimento domani spazio agli ultimi due quarti di finale con svezia inghilterra e russia croazia si decideranno così le semifinali di russia 2018 un mondiale di calcio contraddistinto dal bar che ha aiutato non poco gli arbitri ne parleremo anche nella seconda parte proprio con graziano cesa di come vi dicevo esperto proprio di andare a vedere subito le quote delle due singole partite partiamo da svezia e inghilterra quindi ancora inghilterra protagonista favorita peraltro con una quota di 1 e 95 la quota under è a 1 e 50 quindi particolarmente bassa no goal a 1 e 61 ci aspettiamo una partita povera di reti come è stato in questo mondiale sia per la svezia ma anche per l'inghilterra non tantissime reti a parte con la la gara con panama che era la squadra diciamo così simbolo di questo esordio al mondiale la squadra un po cuscinetto anche se i panamensi si siano saputi ben destreggiare hanno ricevuto una grande accoglienza in patria dopo il rientro da dalla russia quindi favorita l'inghilterra ma la quota x potrebbe anche essere presa in considerazione 3 e 25 veniamo invece adesso a russia croazia con le quote della partita fra i padroni di casa e la croazia che sicuramente sicuramente una delle sorprese l'outsider numero uno per questi mondiali favorita la croazia con una quota di 2 e 20 quota gol invece 2 e 12 da tenere in seria considerazione addirittura l'hovera 2 e 55 anche qua secondo i bookmakers ci potrebbero essere pochi gol anche la russia non è una squadra che contro la spagna ha sciorinato una grande prestazione è riuscita a qualificarsi grazie ai calci di rigore quindi queste le quote per russia croazia e se voleste invece puntare sulle quote del passaggio del turno quindi non 1 x 2 ma il testa a testa fra le due squadre ve le presentiamo subito inghilterra quotata a 1 e 40 appunto l'approdo alle semifinali degli inglesi 2 90 invece per la svezia 2 50 per la russia 1 e 52 per la croazia quindi favoritissime sia inghilterra che croazia come possibili semifinaliste di questo mondiale in russia 2018 prima di chiudere è giusto dare menzione di quella che è la notizia di questi giorni passiamo adesso al calciomercato perché la juve è davvero pare essere vicina o insiste sempre più con il real madrid per l'acquisizione niente poco di meno che di cristiano ronaldo 100 milioni la cifra fissata per l'acquisto del portoghese che è stato eliminato agli ottavi di finale con il portogallo dai mondiali quindi potrebbe lasciare il real madrid così come aveva fatto capire alla fine della finale di champions league e addirittura prodare alla juve sarebbe davvero un passaggio fondamentale per la crescita esponenziale del calcio italiano anche in ambito internazionale vedremo quello che succederà e vedremo se agnelli e il suo entourage riusciranno a portare a torino cristiano ronaldo ci fermiamo con questa notizia pausa torneremo dopo con il collegamento telefonico per la crescita esponenziale hai mai pensato che una cosa potesse accadere poi magari è successa sono mr mess point e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita se un coriglio attraverserà la pista e anche sul nome del prossimo eredio al trono scommesse on demand da oggi sei tu che inventi le scommesse il gioco è vietato minori e può causare dipendenza patologica perché se pensi che succederà allora puoi scommetterci seconda parte di win city sport weekend di oggi che apriamo con come di consueto con il collegamento telefonico oggi è un collegamento di prestigio perché abbiamo in collegamento con noi uno specialista del var in questo momento ma un ex arbitro internazionale che ha diretto tantissime partite in seriale ho il piacere di avere in collegamento con noi graziano cesare buongiorno buongiorno a lei grazie della disponibilità e grazie soprattutto in un momento in cui i mondiali sono in pieno svolgimento con possiamo dire finora un utilizzo del var sicuramente efficiente e che ha aiutato molto gli arbitri assolutamente positivo voglio dire che l'innovazione sta funzionando un qualche istituto assolutamente normale perché il rotaggio al generale non italiani non dati che diciamolo il parco è funzionato è assolutamente difficile è un anno di caso il campionato è un dato molto molto bene nel quale sono stati risultati 55 partiti del mondiale e non è stato segnato un po' di scelte basterebbe quello che è profondo questo è un dato significativo anche perché se prendiamo il dato che riguarda per esempio le partite della fase a Gironi il 99,3% degli interventi del VAR è stato corretto questo la dice lunga su quello che è la necessità e l'efficienza dell'elemento tecnologico ai giorni d'oggi assolutamente sì credo che sia un po' una situazione forse ottimistica del 99,3% chiaramente in questo momento che si è dedicato da registrati in questo caso c'è un pochettino vedete che c'è stato in quattro occasioni in cui non l'ha funzionato più di altro per una negatività del GF di guerra centrale che era parte che socialmente ha quell'episodio fatto che non si è sanzionato non rivisto non ha rivalutato senza la possibilità che ha fermato perché è un errore ma per scopo che non è che perché la città non si è riuscito e se mi piace quell'errore non è che inizio di cui si è che va fortunatamente di fatto così e di che solamente è un errore e quindi inizialmente voglio dire che Giorno si fa bene mi piace Giorno Giorno si 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 e il targato è fondamentale, è veramente un'evalutura che poi ha il supporto agli organizzatori in bocca, sono molte difficili perché i colleghi è un po' di liquidi, il po' di poter essere ucciso per il italiano e gli aiutano a dire il suo livello, solo se non ho vito e quello è quello che è quello che è. Esatto, la successiva domanda era questa Magari ai tempi in cui arbitrava proprio Graziano Cesare Il VAR sarebbe stato molto utile in tanti casi Anche perché i giocatori al mondiale Alcuni lo conoscevano già nei rispettivi campionati Altri invece si trovavano all'esordio con il nuovo elemento tecnologico del VAR Assolutamente sì, io credo che nel 98 eravamo ad Antaglia Un punto di vista di preparazione proprio in europeo E in una situazione delle concettività Adesso ho fatto la domanda ai 30 anni E dice che se volevo accostarci Siamo realizzati Sì 36 anni fa, solamente due conti Dopo di aver fatto il VAR Non è un problema di tecnologico Già sapevamo che il problema è che A me c'è anche servito campionato Come credo ci sia il mio collega E' un'altra situazione E' un'altra situazione E' un'altra situazione E' anche cosa E' un'altra situazione Insomma, è un bel È un bel Ecco, in conclusione Prima di chiudere E' possibile proprio nel primo mondiale Con il VAR Che una nazionale che non ha mai vinto il mondiale Possa forse ancor più Agevolmente poter trionfare Voglio dire, sappiamo che le grandi nazionali Hanno sempre dominato i mondiali Però potrebbe esserci questo elemento in più Che spinga la nazionale Non so, penso alla Croazia O penso al Belgio Che possa arrivare fino in fondo E conquistare il mondiale Anche grazie a un supporto del genere Ma ci mancherebbe altro Ma ci mancherebbe altro Perché quel concetto Di giocatore Che non è un gruppo Così antico Così peristorico Che non ha mai scoperto Che gli autori di Gatti C'erano la categoria Credo che lo vedete E' un'altra Esatto Adesso c'è il VAR C'è un'altra psicologia In tempo in cui il calcio Ormai è globalizzato Grazie Graziano Cesari Gentilissimo Disponibilissimo In bocca al lupo Per il proseguo del mondiale Siamo ormai nelle fasi conclusive Vedremo chi riuscirà a vincere Grazie ancora Grazie, grazie a voi Buona tradizione A presto, grazie E' stato un collegamento Molto interessante Da un punto di vista Proprio tecnologico E dal punto di vista Dell'arbitro Graziano Cesari Si occupa quotidianamente Per Mediaset Dei mondiali Dello sviluppo Del VAR E' un esperto ormai Proprio di VAR E ci ha illustrato In questo senso Quello che appunto C'è da aspettarsi Da ora in avanti Per il calcio Come diciamo appunto Ormai globalizzato Procediamo con la multipla Di oggi Riguarda chiaramente I mondiali Più che una multipla E una doppia Le due partite Dei quarti di finale Che mancano Per completare il programma Quelle di domani Andiamo a vedere subito Questa multipla Che vi suggerisco Con due quote Abbastanza allettanti Andiamoli a vedere subito Il suggerimento è Under 1,5 Gol Di Svezia e Inghilterra Quindi una partita bloccata Con poche reti La Svezia è una squadra Che subisce pochissimi gol Ne fa comunque anche pochi E l'Inghilterra Dimostra di essere Una squadra Anch'essa abbastanza arcigna Quindi il suggerimento È l'under 1,5 A 2,51 E il 2 Della Croazia Contro i padroni di casa Della Russia Croazia che punta Ad arrivare Alle semifinali E potersi appunto Giocare contro Svezia e Inghilterra Lo sapremo domani L'eventuale semifinale Quota 5,52 Con 20 euro Sarebbero oltre 100 euro Quindi in bocca al lupo Questo è il suggerimento di oggi La prossima settimana Qualora fosse vincente Avremo modo di parlarne Di magari festeggiare insieme a voi Per tutti coloro i quali hanno seguito Queste indicazioni Per quel che riguarda La multipla di oggi Spazio adesso al video Dal web Video dal web Che è Incentrato Anzi Pone all'attenzione Uno dei momenti salienti Forse più ricordati Più riconosciuti Della storia dei mondiali di calcio Manteniamo sempre l'argomento mondiale Anche per la rubrica del video Dal web Oggi è protagonista Alla mano dei Dios Diego Armando Maradona La sua rete con la mano Messa segno Contro l'Inghilterra Messico 86 Possiamo definire il gol Più celebre Però anche più irregolare Della storia dei mondiali di calcio Che è arrivato Durante una partita in cui Il genius regolatezza Di Diego Armando Maradona Riuscì a mettere a segno La rete più bella Della storia dei mondiali Riconosciuta da più parti E anche come dicevamo appunto La rete Considerata quella più famosa E appunto irregolare Messa a segno con la mano Da lì La cosiddetta mano dei Dios Che consentì all'Argentina Di andare avanti E poi conquistare E alzare al cielo Proprio da parte di Diego Armando Maradona La seconda coppa del mondo Il secondo titolo mondiale Conquistato dall'Argentina Che invece in questi mondiali di Russia E' uscita fuori Agli ottavi di finale Contro la Francia Quindi è un momento storico Forse tra quelli più ricordati di sempre Dei mondiali di calcio E oggi non potevamo che Ricordare uno dei grandissimi campioni Che i mondiali di calcio hanno espresso E che il mondo del calcio Ricorda con più piacere E' sicuramente considerato Anche il più grande di sempre Insieme ad altri pochi eletti Possiamo nominare Pelé o Van Basten Fra i giocatori più forti di sempre Per quanto riguarda il calcio Riconosciuto appunto dagli amanti Del calcio Oggi appunto Spazio e video Dedicato alla mano De Dios Ultima parte che apriamo Invece con il tennis Ultima parte di Win City Sport Weekend Di oggi con il tennis Perché è in pieno svolgimento Il torneo di Wimbledon A Londra Il più prestigioso torneo Che si gioca sull'erba Favoritissimo Roger Federer Che ha già superato i primi turni E sicuramente è il candidato numero uno Alla conquista Ancora una volta di Wimbledon Ricordiamo i giocatori E le giocatrici Giocano in tenuta Completamente bianca È una regola del torneo Dicevamo appunto È in pieno svolgimento Durerà due settimane Si concluderà Domenica 15 luglio appunto Sui prati Sui campi verdi Di Wimbledon A Londra C'è tra l'altro Un italiano Che ha fatto parlare di sé Proprio in questi primi turni E Fabiano Che ha battuto In 3-7 Uno dei tennisti Comunque considerati Tra i maggiori indiziati Ad arrivare in fondo Nella manifestazione Ovvero lo svizzero Wawrinka Che comunque Negli ultimi tempi Non ha vissuto Delle fasi eccezionali Ma è comunque Un'impresa importante Quella di Fabiano Che ha battuto Proprio ieri Il tennista svizzero Wawrinka In 3-7 Con il punteggio di 7-6 Nell'ultimo set Match che è stato poi Ripartito dopo la pausa Del giorno precedente Quindi complimenti Al tennis italiano Che ha espresso Ben 10 giocatori In questo Torneo di Wimbledon 10 giocatori in partenza Maschile È un record Assoluto Per il tennis italiano Volevamo fare una parentesi Con il torneo di Wimbledon Prima di tornare E lo facciamo subito Allo speciale Alle quote speciali Sisal Matchpoint Per quel che riguarda I mondiali in Russia Parliamo ancora di mondiali In questa chiusura Mondiali russi 2018 Andiamo a vedere le proposte Con le quote speciali Di Sisal Matchpoint Che ci propone Quotidianamente Il sito Sisal.it La prima proposta Riguarda Riprendiamo il discorso Fatto con Graziano Cesari Pocanzi L'arbitro che consulta Il VAR Nelle partite Di domani Nei due quarti Di finale Di domani Svezia Inghilterra In Svezia Inghilterra E Russia Croazia Consulta il VAR In Svezia Inghilterra E Russia Croazia Punto si a 1-2-10 No a 1-65 Quindi potrebbe essere Così sfizioso Poter puntare Sulla quota si Quella un po' più alta Proprio con l'arbitro Con gli arbitri Delle due partite Chiamati a dover utilizzare Il video Del VAR Non soltanto Il silent check Ma proprio Che vanno a consultare A bordo campo Il VAR Questa è la prima proposta E mentre Per quel che riguarda I giovani giocatori Di questo mondiale Quelli che si stanno Si sono messi in luce Hanno ben figurato Il premio Della FIFA Best Young Player 2018 E abbiamo Selezionato Dalla sito Sisal.it Questi giocatori Favoritissime Chiliam Bappé Il calciatore della Francia Che ha fatto sicuramente Grandi cose In questo mondiale In Russia Ma ci sono anche Altri giocatori Gabriel Jesus A 2.25 Un po' meno brillante Il brasiliano E poi via via Altri con quote Sicuramente molto più alte Betancourt Della Juventus A 33 Milenkovic A 50 Ma c'è anche Dembélé L'altro francese A quota 12 Queste sono le proposte Per il vincente Best Young Player Ripetiamo Favoritissimo Chiliam Bappé Per quanto riguarda La Francia Noi prima di chiudere Vi ricordiamo Che nella sala Sisal Win City Di Catania Potrete anche Cenare O pranzare C'è la zona Ristoro Tutti i giorni Con anche Piatti stellati Studiati E messi in menu Dal Chef Troiani Recentemente C'è stato un evento Proprio qui Anzi ieri C'è stato un secondo Evento enogastronomico La Sisal Win City Di Catania Offre sempre Tanti appuntamenti Con l'enogastronomia E appunto Vi invitiamo A venire a pranzare O a cenare Qui Oltre che Seguire le ultime Partite del mondiale Quelle decisive Potete anche Usufruire della promozione Panino Più birra 5 euro E con una scommessa Di pari importi Ovvero di 5 euro Potreste usufruire Di una birra In omaggio Queste sono le varie Proposte promozioni Di Win City Sisal Win City Catania Per le partite Dei mondiali Di Russia 2018 Manca pochissimo La prossima settimana Andremo a vedere Chi invece Potrà aggiudicarsi Il titolo mondiale Ci fermiamo qui Per oggi Noi torniamo La prossima settimana Con l'ultima puntata Di questa lunga Scia Di puntate Di Win City Sport Weekend Qui dalla sala Win City Di Piazza Trento A Catania Noi vi rimandiamo A fra sette giorni 22.30 Radio studio centrale 22.45 Su Tele One Alla prossima Alla prossima